Non si può non comunicare, ancora di più ai tempi dei social, con tutti i limiti e le strutture che le nuove forme di comunicazione producono. Ne ha parlato al Circolo del Nuoto di Avellino Ferruccio De Bortoli, editorialista del Corriere della Sera, già direttore del quotidiano di Via Solferino e del Sole 24 Ore. A volte la tempestività fa premio sull'accuratezza e questa è una trappola. A volte la tempestività induce una superficialità nell'analisi e nel commento e anche questa è una seconda trappola. Una degenerazione della comunicazione diretta di un politico che ha la presunzione di parlare ad ogni istante con il proprio elettore in una forma estremamente ipertrofica di vanità personale. Libertà di stampa a rischio? Ho trovato sguaiati gli attacchi ai giornalisti di Di Maio. Nel paese c'è un clima inquietante. Gli attacchi ci sono stati anche in altre stagioni politiche, magari più sofisticati e forse più produttivi, però c'è un clima di intolleranza e di scarso rispetto nei confronti delle istituzioni che è francamente inquietante. De Bortoli riserva anche un passaggio sui conti dell'Italia nello scontro con Bruxelles. Conti erano prima a rischio, lo sono adesso. Mi sembra di capire oggi, lunedì 26 novembre, che ci sia un modesto ravvedimento operoso. Speriamo che il buon senso prevalga sul senso comune.